È il giorno della Federal Reserve, tutti focalizzati su quelle che saranno le decisioni in ambito di politica monetaria da parte della Banca Centrale Statunitense. Che cosa succederà ai mercati? Beh, in questo breve video cercherò di darvi un breve spunto tecnico, ma anche di farvi riflettere e ci rifletteremo seguendo proprio il live a cui daremo vita a partire dalle ore 18.55 sul nostro canale YouTube. In descrizione trovate il link per poter partecipare in maniera del tutto gratuita. Ecco, come vi dicevo, vi mostrerò sul finale anche un grafico che mette quantomeno in relazione alcuni aspetti macroeconomici piuttosto importanti. Io vi ricordo che per sostenerci basta iscriversi al nostro canale YouTube. Qua sotto trovate il tasto di iscrizione. Se volete vi potete anche iscrivervi in maniera sempre del tutto gratuita al nostro canale Telegram. Nelle ultime settimane diamo vita ad alcune dirette estemporanee non registrate e ovviamente partecipabili soltanto a chi è iscritto. Andiamo direttamente in piattaforma. Ringrazio ancora una volta Ticmill per il sostegno che ci dà. In descrizione trovate anche il link per provare la demo. Un'ampissima offerta di strumenti a vostra disposizione. Parto con l'S&P 500. Mi piace partire dai time frame settimanali che chiariscono molto spesso quello che sta accadendo sul mercato. Per me 4.330 punti al closing settimanale la discriminante principale. Un superamento, una chiusura al di sopra di tale livello potrebbe aprire la strada per ulteriori rialzi. 4.400, 4.460 potrebbero essere i target rialzisti. Ma successivamente un failure breakout o comunque sia una nuova retromarcia da parte dei prezzi, ecco che si potrebbero invece nuovamente aprire le strade per ribassi e stavolta attenzione perché magari potrebbe addirittura essere innescato da una Fed troppo aggressiva e lì attenzione perché la volatilità potrebbe nuovamente scoppiare al rialzo e chiaramente ci potrebbero essere dei ribassi importanti sui listini. Per quanto riguarda invece il settore tecnologico che ha visto proprio nelle ultime ore una riscossa piuttosto importante, è andato al test di area 13.000 punti. Anche qua partiamo direttamente con il Nasdaq, sempre sul time frame settimanale. La mia linea di demarcazione intorno a area 13.900 e 14.000 punti risulta essere fondamentale. Annullerebbe innanzitutto i cali della scorsa settimana, ci sarebbe praticamente un test sui minimi fatti tre settimane fa e soprattutto un closing weekly al di sopra di tale area potrebbero appunto sancire nuovamente il ritorno dei compratori che potrebbero spingere almeno in area 14.500 punti il listino tecnologico. Su di lui potremmo far pesare ma non è questo il video in questione in cui voglio parlare di eventuali correlazioni inverse con il rendimento del decennale statunitense. Step by step cercheremo di capire quello che accadrà nelle prossime ore, nelle prossime giornate. L'evoluzione e i cambiamenti sui mercati finanziari sono all'ordine del minuto. Chiudo infine facendo un breve recap anche sul Dow Jones 34.100, 34.000 punti circa insomma all'area da tenere sotto stretta osservazione qualora il closing settimanale si dovesse registrare al di sopra di tale area anche perché come potete vedere un po' più tecnico il Dow Jones si recupera area 33.700, 33.500 punti dove c'erano state alcune spike ribassiste in passato e questo sancirebbe ancora una volta quello che potrebbe essere ancora lo ripeto un ritorno dei compratori. In questo caso area 35.000 punti potrebbe essere il primo target rialzista in importante. E chiudo questo breve video con un articolo di Bloomberg il quale va a mettere in contrapposizione o meglio a confronto alcuni aspetti macroeconomici piuttosto interessanti in ottica sì di breve medio e lungo periodo a partire da quello che è il primo estogramma sulla sinistra appunto ai tassi di interesse da quello che sarà la prospettiva di crescita dell'economia a stelle strisce il livello di disoccupazione e poi non il CPI ma quelle che sono i livelli di inflazione relativi alle spese personali dei consumatori dei cittadini statunitensi e chiaramente attenzione perché in questo caso vedete che la proiezione può far vedere un calo dell'inflazione piuttosto marcato almeno tra il 2022 e il 2023. Insomma le prospettive per quanto riguarda la Federal Reserve sembrano essere piuttosto diciamo pacifiche mettiamola così con quello che potrebbe essere stato un picco di inflazione ultima rilevazione al 7.9% negli Stati Uniti che forse potrebbe sancire appunto il picco assoluto sarà così non sarà così beh noi lo seguiremo seguiremo tutti quelli che saranno i prossimi eventi in programma ma vi ricordo infine questa sera ore 18.55 è il giorno della Federal Reserve seguiremo sia la comunicazione da parte della banca centrale sui tassi di interesse ma mezz'ora dopo quelle che saranno le parole del numero 1 Jay Powell è tutto per questo video spero vi sia piaciuto se volete fatemi sapere la vostra opinione nei commenti io non posso che ringraziarvi anticipatamente augurarvi una buona giornata e attendervi al prossimo live hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata